Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Restando a 26,99, quindi magari poi potete anche valutare di attendere ulteriori sconti, ma com'è questo gioco e che cos'è? Beh, questo gioco mi sembra un mix tra un Soulsar e un Remnant, Remnant soprattutto per l'ambientazione, sembra ricco, trastuta da ogni poro l'or, l'or che bisogna capire e vi faccio vedere dove sono arrivato. Il gioco ha una peculiarità che non ho ancora sbloccato, infatti vedete in basso a sinistra che ci sono questi quattro quadratini, questi rombetti, e c'è la possibilità di andare a inglobare in noi stessi delle personalità diverse. Andando in questo, chiamiamolo Falò, perché ormai così si chiama, possiamo aumentare di livello noi stessi e adesso abbiamo Theron Guilamen, che è il personaggio, una sorta di guerriero. Qua si va a livellare, qua si va a potenziare oggetti, manufatti o anelli, si va a mettere i talenti dell'essenza, infatti vedete che ci sono tutte queste essenze qui che possiamo prendere, noi al momento abbiamo solo questa di Theron e poi abbiamo le essenze che possiamo andare appunto a mettere nella cavoccia direzionale, insomma da poter shiftare da uno all'altro. Altra cosa da sapere è che la vita massima coincide anche con la stamina massima, infatti vedete lì a sinistra se io faccio una rotolata vedete che si consuma la stamina. Se faccio un attacco potente i tasti sono fondamentalmente quelli simili a Elden Ring, l'ambientazione come vi dicevo ricordo molto Remnant, c'è una storia ampia dietro, tra l'altro c'è una scena sempre onirica di sogno ogni volta, questo l'ho visto dalla demo, che sbloccate un personaggio. Io ho vissuto il passato di questo personaggio qui e l'ho trovato in una storia, Barry Reeve ovviamente è raccontata brevemente, ma molto intrigante, si parla di questa idea della morte, lui che comunque ha, non vi dirò altro, ma ha innegato la propria famiglia per seguire questa vocazione. E noi ci ritroviamo qui in questo edificio dove c'è stata una grande esplosione, abbiamo fatto un assalto, c'è parecchia loro dietro dove ci sono guerre, ci sono... Uh 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 che botta che ho preso, ci sono gli inquisitori, insomma ci sono un sacco di cose, non c'entra molto inquisitori con un buon hammer, però è abbastanza tosta. Si può fare la parata, si può fare il Perry, vedete che... uh mi stanno... si può andare anche a targettare un nemico premendo lo stick destro, sto giocando col pad che sembra prestare meglio. Ok? E non si ho messo proprio benissimo, questa non è una grande zona, spero di sbloccare presto i... gli altri personaggi, ci vorrà un po'. Tra l'altro qua non lo si vede fluidissimo perché sto registrando, in realtà il gioco senza registrazione è tremendamente fluido e vi dirò la verità, ho provato anche altri giochi che o scimmiottano o cercano di imitare i souls like, o gli Elden Ring, i Lies of Pea, gli Steel Rising e lo fanno veramente male. Questo gioco lo fa bene, poi bisognerà vedere anche a livello di difficoltà, però insomma ci proviamo. Ovviamente vista l'ambientazione è più vicino, una sorta di Lies of Pea che... uh! Al momento gli scontri non è che siano così difficili, ma vedete sto iniziando ad accumulare anime, cosa che non ho fatto fino a questo momento perché ero nel tutorial e dal tutorial sono appena uscito. Adesso ci sono, vedete posso targettarli, poi shiftare da uno all'altro, adesso non me li farò vedere, non me li farò vedere... Vedete uno, oppure premendo... È molto bella, questo è l'attacco potente, molto bella l'animazione quando io correvo di fronte a uno che mi lanciava le lance, io correndo leggermente ho schivato e mi è passata sopra la spalla. Quindi è fatta veramente bene anche la fisica. Ora ci sono degli oggetti là, andiamo a prenderli così iniziamo magari... Qua c'è anche la corsa, vedete che ce n'è uno qui. Oggetti consumabili. Consumo all'oggetto selezionato, quindi tieni premuto X più... ok, perché qui devo studiare un attimino come funziona. Vedete che ho la cura, oppure tieni premuto X più uno dei due posso andare a sceglierne un altro. Ma non so cosa sia, questo qua 300 di esperienza e 30 di salute. Io lo prendo, posso prenderlo? Sì, premuto X. Ok, sono un pochino come le rune diciamo su Elden Ring che si usavano. Non credo ci sia una sorta di mappa, ci si muove così. Non si apre da questo lato. Si può andare giù, ma io non andare giù. Voglio andare anche là sopra a prendere quell'altra cosa. Non ne hanno parlato male neanche le recensioni. Quindi, io spero davvero lo vediate fluido in video perché va molto bene da solo, come dicevo, ma qui in streaming lo vedo un pochino più pesante, ma è normale. Affilatore di lame, consumabile questo un po' all'Ice of P. Ok, sono saltato giù. Siamo di qua. No, non so dove andare, devo provare ad andare di qua. Probabilmente da questa parte qua. Ok. E comunque vi garantisco che il gioco all'inizio è ricco di cutscene, di narrazione, doppiata in inglese, sottotitolata in italiano. Davvero molto bella. Ok, vedete che è un po' fuorviante questa cosa della della stamina perché sembra di aver perso vita e in realtà non è vero. il discorso è che le armi non si cambiano perché ci sono appunto le altre essenze da prendere e che ci faranno cambiare letteralmente classe e ognuno avrà la propria vita, avrà i propri punti di esperienza e soprattutto abilità. Gli effetti di accumulo possono affliggere sia te che i tuoi nemici. l'effetto si attiva quando la rispettiva barra è piena. L'aumento delle tolleranze riduce, la quantità di riempimento della barra quando ti viene imposto un effetto. bruciatura, ok, è come i souls praticamente. Ora c'è lui, vediamo se mi ha fatto molto male questo però, eh. Devo prendere una cura. Ok. Questa porta qui è aperta o chiusa? Vaniglia mancante, ok. 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 Non voglio fare i nomi di altri giochi che ho provato di recente su questo filone ma devo dire che probabilmente questo è il fatto meglio tra quelli un filino meno famosi. Ecco, per dirlo in modo diplomatico. Lo chiamiamo souls ma souls non dovrebbe essere. Vaniglia mancante, perfetto. Ecco, abbiamo abilitato un ascensore. Non mi piace stare in questo posto. Funziona? No, evidentemente no. No, ho visto qualcosa là in fondo ma non so se riesco ad andare a prenderlo. Sì, da qua. consumabile, vediamo un po' cosa fa. Conferisce 300 di esperienze e 30 di salute. Anche questo, ok. Dai, adesso abbiamo trovato la maniglia, possiamo andare avanti. Dai, è giù. Posso saltare? Io non mi faccio niente. Io ho un pessimo senso dell'orientamento. Posso saltare? Sì. Maniglia. Mi hanno visto. Mamma mia, la stamina si scende. Aspettiamo che arrivino qui, eh. L'altro lo voglio... Aia. Lo voglio attaccare con l'attacco pesante. Perfetto. Adesso nessuno ha lasciato cadere nulla. Prendo questo. Poi tra tutti, se lo consideriamo, un Souls, credo si avvicini più, ma neanche tanto, però ha un Lice of Peace più che un Elden Ring, ovviamente, perché questo non è open world. Che male! Ho finito la stamina! Ok, ricarica la stamina. Ok. Qua sotto non c'è niente. Eh, sto accumulando un po' di esperienza. Spero di trovare un falop a resto. Ok, non ce l'ha fatta ad attaccarmi. Allora, qua sotto. Secondo me no. Ma probabilmente sì, perché qui non c'è nient'altro. Non si può interagire con nient'altro, quindi... E tra l'altro poi, vabbè, ne sono usciti di giochi di questo tipo, dicevo, negli ultimi tempi. E' veramente pessimi. E questo non lo è. Questo non è assolutamente pessimo. E' un buon gioco. Un gioco che potrebbe magari anche solo valere un sette e mezzo come voto. Non credo che le recensioni ne abbiano neanche parlato così male. Anzi, non è sicuramente un'eccellenza, ma cos'è questo? Assorbi. Ok. Abbiamo probabilmente la possibilità di assorbire un altro personaggio. che vedete, ha comunque una certa cura. Si perde in animazioni. Anna Lepus, del popolo degli... Non ho letto. Adoratrice della nostra madre, Dea Vita. Ah, questo è l'opposto di quello che faceva a Theron. Ok, e qui abbiamo il sogno onirico con il racconto della storia di questa ragazza, questa donna. Lo seguiamo. La stessa cosa ho vissuto anche con lui. La storia mi è piaciuta, carina. Bellissima, insomma. Ci coni noti, niente di che. Però, adesso qua compariranno dei fantasmi, probabilmente, infatti. Siamo in una foresta. Non prendisi la nostra capa, Anna Lepus. Che possa ricevere la benedizione. Esiste fino all'arrivo della prossima estate. Ok, aspettate che devo... In questo giorno, ancora una volta, amore per fertilità. Ok. Ok. Ho dovuto disattivare anche la chat di Steam, perché mi scrivono di continuo. Ok. Vabbè. Adesso, il mio senso dell'orientamento, non so dove mi condurrà. Ovviamente si fa avanti di qua. E vedete che qua... Non ti preoccupi mai. Non chiamarmi capa, ragazzo. Ma puoi dimmi, preoccuparmi di cosa? Noi, Egissi e Romi, la vita non ha... Cioè, far vedere la sopportare, debito da saldare. Infatti, anche l'altro, che è adepto della Dea Morte, non vede l'ora di morire. E ricongiungersi alla Dea. Qua abbiamo un altro feedback, probabilmente. Vediamo un po' l'attacco di questa. Questa attacca con questo pugnale... E questo salto. Ma dovrebbe avere anche la balestra. Ok. Ok, infatti. Il sergente, solo a guardarle si capisce che sono miscredenti. Sì. Cultisti. Il prezzo è appena salito. 100 corone. Praticamente sono quelli della morte che fermano quelli della vita, della Dea Vita. Nel spedetto del denaro non c'è problema. Possiamo sempre arrestarvi per... E lei paga. Sembra sapere il fatto suo. Troppo generosa. Ah, stanno facendo contrabbando di qualcosa. Ok. Sono tornato dalla caccia. E uno dice, è lei. Anna Leipus è in arresto per aver guidato un'organizzazione criminale. Ci hanno costretto. Hanno ucciso Mari che avrebbe fatto lo stesso con i tuoi bambini. Ah, quindi soldato di morte Gianna l'ha arrestata. Ok, li hanno beccati quindi. Ok, questo non è il gioco. Ma è un modo di farci conoscere la trama di questa persona. Che tecnicamente noi abbiamo incontrato già morta in fondo a un fossato di una fogna, insomma. Ma da qui abbiamo assimilato l'anima. E ora che potremmo utilizzare... È arrivato il momento, preparati. Ah, qua ci fanno uscire. Ok, stanno fuggendo dalla prigione ora. Avvicinati silenziosamente a nemiciniare le spalle. Ah, lei può fare gli attacchi fruttivi. La devi avere a reti e un colpo alle spalle. Ok. Quindi, ok. L'altro non lo poteva fare. Questo sì. Quindi io prendo questo, tu prendi quello. Dovrebbe uscire il tastino. E non esce questo, ok. Perfetto. Perfetto, così ci insegna le abilità. Ah, Elena ci sta liberando. Non ha nessuno, segue solo il denaro. Ok, questa è già una visione diversa rispetto a quella che avevamo. Così tanti doratori di vita in una sola città sono destinate ad attivare lo sguardo funesto della chiesa di morte. Forse hai ragione, ma l'unione fa la forza. Ok. Vabbè, andiamo abbastanza spediti, perché me la riguardo con calma e se il gioco vi piace e ve lo prendete potete godervelo anche voi con calma. Ci sono un po' di... Annalipus è una compatente versatile, è un assassin agile, attacchi nemiciniari o congelati da dietro per colpire le spalle. Ok. Ok, ci fa provare delle abilità in combattimento a distanza. Sembra abbastanza cattivella anche questa, eh, in realtà. Era partita bene, ma in realtà era solo di facciata. È giunta ad Akratia, la città proibita. Dovrebbe essere finito adesso. E qua si esce dal sogno, c'è l'ultima scena, credo. A chi appartiene a questo bambino? E vedete che è tutto un'alternastica, perché lì c'è un'auto. Sembrava tutto così medioevaleggiante, fantasy, né c'è un'auto. Troviamo una famiglia a cui affidarlo. Tu sei Annalipus, giusto? Sì, sono io. E lei mi ha parlato... Ok, vogliono ospitarla qui, ma non accetta lei. E poi io cado giù come un bambino, pensando siano delle scale vere. E in realtà sono morte, che sono morto, e la morte mi respinge molto male a morire durante un tutorial. Fantastico. Questo non doveva succedere. Ho perso tutte le anime, ritorno qui, e sono un pirla. Ma quindi adesso, cosa succede? Siamo tornati esattamente dove eravamo prima. Vabbè. Torniamo indietro. Non dovevo morire lì. Non era probabilmente neanche previsto dal gioco che io morissi lì, ma io sono scemo. Devo provare se le scale fantasma funzionano o no. E ora si fa la cosa che io non ho... che non bisogna assolutamente mai fare in un Souls. O in un Souls-like, insomma, quello di correre nel luogo dove si è morto. Perché si muore un'altra volta. Quindi cerco di farlo con calma. Ok, sono tornato qui, ho recuperato le anime di fronte al corpo di lei, e sono rientrato, e mi sono rigiocato tutta la parte qua. E dove probabilmente adesso si concluderà la parte finale della storia. Ok, possiamo saltare. E quindi a questo punto non saliamo su quelle scale lì, ma finiamo il racconto da qua. Si esce dalla visione. A questo punto il gioco si sta aparendo. Perché? Perché abbiamo il secondo personaggio. Con le sue abilità. E devo dire che il combattimento non è eccessivamente punitivo, da quello che ho visto anche nella run, diciamo, adesso a tornare, dove ero, prima di morire in modo stupido. E poi ci sarà anche la componente di sincronia, dove dovremmo far convivere queste due, queste anime qui. E vedete che sta continuando ad alternare tra i due, e stiamo scoprendo il nostro potere. E si parlano tra di loro. E temiamo che sia una maledizione di quel corpo che abbiamo trovato. E lei non crede nemmeno di essere morta. Bene. Durante il viaggio incontrerai nuovi personaggi che potrai assorbire come essenza. Ogni essenza al suo livello di salute e vigore, ma se una di loro muore hai perso, quindi possiamo shiftare da uno all'altro. Trasformazione all'essenza con il livello di vigore più alto. Con la Y, cosa che non avevo ancora usato. Vedete che divento questo, divento quell'altro, così. Un potente tipo di trasformazione che avviene durante gli attacchi. Esegui una trasformazione durante gli attacchi. Richiede uno slot di sincronia, barra blu in basso al centro dello schermo, che è quella che vediamo lì. Ogni volta che colpisce un nemico, poi esegui una schermata perfetta. E piena, verrà eseguito un ultracolpo muta forma. Praticamente se io mi trasformo... Se io attacco trasformandomi... Allora io attacco, faccio salire lo slot e nel mentre attacco cambio forma. Cioè, aspettate, carico. Dovente un attacco trasformato in un'altra essenza al costo di sincronia. Ok. Io attacco trasformandomi in lei. Non ce l'ho fatta però. Allora... Allora... Io lo attacco... E ho consumato la sincronia. Sì, ci vuole parecchio tempismo, eh. Allora, io attacco... Nel mentre attacco... E ho fatto l'attacco... Ah, ok. Bene. Esci dalla visione. Perfetto. Abbiamo scoperto anche la sincronia adesso. Diventa complesso la cosa. Cioè, bisogna avere un buon tempismo. Comunque qui c'era il corpo. Le anime erano qua davanti. Quello sono morto. Le ho recuperate. E ora si può salire alla scala. Credo, mi aspetti un falo... A questo punto. Perché... Comunque... Credo sia possibile poi anche... C'è il salvataggio del gioco. Credo sia possibile anche andare a vedere i livelli, i punti abilità. Non vedo l'ora di entrare. Anche se in realtà dovrei shiftare. Sono già lei. Così gli faccio il colpo furtivo. Ok. Cosa che lui non avrebbe fatto. E da qui posso attaccare la distanza. Aia! Ok. Attivo. Non so cosa ho attivato, ma... Ah, questa. Ok. È dove eravamo prima probabilmente. O forse no. Comunque. Ho trovato anche, dicevo, un anello. Nel corso del... Mentre tornavo indietro. E ho trovato questo anello qui. P10 probabilità di ottenere oggetti. Se io passo da uno all'altro... L'anello è equipaggiato comunque. Ok. Quindi l'equipaggiamento è unico. E ci sta perché... Noi cambiamo solo i ninnoli, diciamo, i gioielli, quelle cose lì. Ma le armi sono legate al... Ok, qua ci sono già stato. Sono legate al... Alla classe che andiamo a scegliere. Non so. Apri. Ok, qua abbiamo aperto la porta di prima. Ok. Sotto c'è qualcosa. Liquido congelante. Qua c'è una porta. Che sarà chiusa. No, invece no. C'è parecchia esplorazione comunque con tutte queste... Ok. E sono tornato qua. Dove eravamo probabilmente prima. Sì, è una scorciatoia perché siamo andati di là. Perfetto. Quindi in questo caso noi possiamo andare qui e aumentare di livello. Praticamente andando qui possiamo scegliere di spendere con l'aumento di livello. Andare a difese più di 2%, più di 3% di vita e così via. E qui dovrebbero esserci anche... Vedete che ci sono andando, muovendosi all'interno di questo schema, all'interno delle varie essenze che abbiamo sbloccato. Infatti sono tutte bloccate. C'è quello del guerriero di Teron e gli altri bloccati. Quindi si può andare a sbloccare così. Potenziare gli oggetti, quindi potenziare l'anello. Quindi c'è la possibilità di andare a potenziamento antico spendendo queste due risorse che vediamo qua sulla sinistra. Quella pietra verde e il circuito, il processore, lì come si chiama. I talenti dell'essenza, andare a vedere che cosa si può fare potenziando questa. Quindi si può andare a aumentare danni di 10%. Col premuto a forma ricaricano la balestra. Corpo, corpo, ok. E qua ce ne sono altre ancora. Perfetto. E qua abbiamo vincolo a essenze dove possiamo andare. Vedete, ne abbiamo, sono tutte interconnesse. Possiamo averne sette, credo siano sette, quattro disponibili al momento. Quindi è molto interessante il gioco. Io qua, vabbè, riposo così il gioco salva. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Deadbound. Io lo trovo molto, molto, molto interessante. Attendo il vostro parere qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao. 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 Grazie a tutti.